Calano gli incidenti, fortunatamente è anche il numero dei morti sulle strade dell'Alto Adice. Nel 2008 in provincia di Bolzano si sono verificati 1.353 incidenti stradali che hanno causato la morte di 43 persone contro le 54 del 2006 e dunque con un calo del 20%. Rispetto al 2006, dice una nota dell'Astat, si evidenza una contrazione sia nel numero di incidenti stradali, meno 5,6%, che del numero di feriti, meno 7,3%. Luglio è stato il mese in cui si è verificato il maggior numero sia di incidenti stradali, 169, che di morti e feriti, per un totale di 203. Gli incidenti più frequenti durante il 2008 sono stati, nell'ordine, lo scontro frontale e laterale, 26,2%, il tamponamento, 18,6%, l'investimento di pedone, 10,9% e la fuoriuscita, 10,8% sul totale. Il pedone è l'entità più debole fra le persone coinvolte in un incidente. Nel 2008 si sono registrati 147 investimenti pedonali con 6 morti. Sono state ritirate 1160 patenti per guida in stato di ebrezza, registrando un netto calo pari al 36,9% rispetto al 2007.